Tutto ciò che rientra nel punto di vista dell'oligarchia mondialista verrà messo sul banco di prova, verrà provato la ricerca sul cancro, incrocerà la ricerca della carne coltivata, poiché al momento non c'è crescita così esponenziale come quella del cancro. Sarà carne cancro modificata, proprio nel senso in cui si dice anche amido modificato. La carne modificata per fermentazione o per coltivazione, qui è la carne che diventa pianta, non è la pianta che diventa carne. L'altra carne, insignificabile, a crescita esponenziale, come la guerra di Clausewitz, è quella dei verbi. Ma lo schifo è tale da superare la difficoltà posta dagli ossimori, carne vegetale, vegetale carneo. Grazie a tutti.